E' stato beccato con circa 15 dose di cocaina pronte allo spaccio, corrispondenti a 5 grammi di sostanza. Con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 49enne albanese, ma residente a Sulmona, I.I., le sue iniziali, è stato arrestato nello scorso weekend dalla squadra anticrimine del commissariato di Sulmona nell'ambito di un normale servizio di controllo del territorio. L'uomo è stato fermato al posto di blocco dagli agenti che, notando segni di nervosismo, hanno proceduto la perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo circa 5 grammi di cocaina divise in piccole dosi per lo spaccio, involucri di nylon, altro materiale, utilizzato per il taglio e il confezionamento della sostanza. L'uomo aveva con sé anche una piccola quantità di hashish. E' scattato quindi l'arresto in flagranza di reato, in attesa dell'udienza di convalida che sarà celebrata nella giornata di domani. Va avanti l'attività delle forze dell'ordine, mirata al contrasto del fenomeno dell'uso e spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.